Eccoci con Mr. Lucci, partita un po' strana, abbiamo un tempo molto chiuso, un commento a caldo sulla partita? Guarda, siamo partiti un po' intimoriti, un po' musci, però loro erano una squadra molto organizzata però al secondo tempo siamo venuti fuori, abbiamo cambiato la partita e si può dire che l'abbiamo gestita sempre noi stiamo lavorando tanto, abbiamo una squadra nuova formata da tanti ragazzi giovani però con tanta grinta e tanta voglia di imparare l'unico rammarico è che le prime due partite secondo me abbiamo buttato un po' di punti anche giocando molto bene, quindi dobbiamo essere un po' più cattivi sotto porta e poi secondo me ci daremo tante soddisfazioni Sicuramente è stato un cammino crescendo fino adesso delle palombare e anche oggi la partita è entrato un po' timorosi, l'ho visto anche io, poi di esperienza forse anche di voglia siete riusciti a ribartarla Sì, l'importante è non mollare mai, questo è il motto nostro pure se andiamo sotto si vede che quando giocano ci hanno la voglia di vincere infatti ecco i risultati, non molliamo mai un centimetro e poi abbiamo portato a casa i tre punti, l'ultimo importante era questo E rimaniamo attaccati al primo posto Sì, alla vetta Grazie mister, alla prossima Grazie a voi